Dove siamo oggi? Questa è la lancione elettrica Trezzo. Ah, ma che bella che è, è stata costruita quando? Perfetto, e che materiale è, che pietra è questa? Il tuffo. Il tuffo? La pietra tuffo. Pietra tuffo, dove l'hanno trovata la pietra tuffo? Nell'Adda. Fammi vedere bene dove? All'Adda. Di là, eccola là, è vero, hanno preso la pietra dell'Adda, il ceppo dell'Adda. Ok, benissimo. Lo sai che stile è questa centrale, Rosy? Eh? È stile gotico Liberty. Adesso la facciamo vedere bene tutta. Guarda, così, così che si vede bene. E questo che fiume è, Rosy? Guarda. Ok, senti, grazie. Ciao. 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 Dove siamo oggi? Oggi siamo a Vavrio d'Adda, provincia di Milano. Ah, e cosa vedo io lì dietro? Vediamo il campanile, il canonica d'Adda, provincia di Bergamo, qui c'è il fiume, il fiume Adda, e poi il fiume di Bergamo e il fiume di Mar delano, provincia di Milano. Perfetto, questo è il fiume allora che divide le province? Di là? La fiume di Canonica. Abbiamo la provincia di Bergamo e di qua la provincia di Milano. Scusi, è pure la scala che ha inventato l'architetto Leonardo da Vinci. Perfetto, aspetta che la inquadro bene, la scala elicoidale, wow, ottimo. Grazie Steffi, alla prossima. Alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao. Ciao.